Foggia non ha colpa degli incidenti delle singole persone. In prefettura per partecipare al protocollo sulla riconversione del cara di Borgo Mezzanone in foresteria regionale, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, commenta gli scandali e gli arresti al comune di Foggia. Foggia non si arrenderà mai, qualunque cosa accade, che noi non ci arrenderemo mai e che ovviamente a prescindere dal sereno risultato del lavoro della magistratura che ovviamente non prevede nessuna condanna anticipata di chi che sia, questo sia chiaro, però Foggia non solo non è sola, ma Foggia ha attorno a sé le istituzioni dello Stato, ha la regione, ha lo Stato, ha le prefetture, ha una società civile ricca e intelligente e quindi non bisogna perdersi d'animo e non bisogna pensare che sia una città senza futuro. Io sono veramente felice di essere qui per l'ennesima volta. Questo dialogo con la città di Foggia mi permette di dire da presidente della regione che, ripeto ancora una volta, Foggia non si arrenderà mai e che deve essere orgogliosa di se stessa qualunque cosa succede e qualunque incidente si dovesse verificare. Questi incidenti accadono e Foggia non se ne deve fare carico perché Foggia non ha colpa degli incidenti delle singole personalità e delle singole persone. No, io non ho nessuna interlocuzione se non quella istituzionale e probabilmente anche quella inevitabile di ogni campagna elettorale. Se durante una campagna elettorale una persona della quale ovviamente io non conosco le attività riservate e queste attività riservate saranno definite dalla magistratura, se questa persona ha cordialità nei confronti di un processo politico, quello che governa la regione Puglia, diciamo così, non me ne posso certo fare carico. Voglio però ricordare che durante la campagna elettorale per le comunali io sono stato in prima linea per sostenere Pippo Cavaliere e con tutto il rispetto e con tutto l'affetto me ne sono sentite dire di tutti i colori.